A volte commettiamo dei peccati a cui è impossibile rimediare, anche se ce la metti tutta. Sai come ero una volta? Ero rispettato. Sapete a chi state fregando questi soldi? Ero temuto. Dicono che questo bar non è di tuo cugino Marva, è di gente pericolosa. Qualcuno ha rapinato il mio bar. Trovate i miei soldi. Quanto le hanno portato via? Tutto quello che era nella cassa. Lei non ha visto niente? No. Tipico del quartiere, giusto? Non sei uscito dal giro. Io faccio solo il barista. Tu non sei un criminale. Tutti hanno un passato. È un bel cane. Cosa vuoi? Voglio i miei soldi alle dieci dati, va bene? Sono venuto in pace. Che vuoi dire? Siamo in guerra. Non va bene. Così non te ne libererai più. Sta alla larga da lui, è chiaro. Cos'è? Ti stai ficcando in un guaio? Qualcosa che stavolta non possiamo rimediare? Voglio che tu te ne vada. Non puoi entrare nella vita delle persone e aspettare... Ascolta, ascolta. Così funziona. Quelli come me si fanno vivi quando non te l'aspetti. Così sì sì sì? Così sì sì sì. Così sì 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 sì. Grazie a tutti.